ciao ciao ragazze ciao a tutti ben ritornati e benvenuti sul mio canale youtube dopo un periodo lunghissimo di assenza dovuto a una gravidanza molto molto difficile e pesante e un po spartum altrettanto difficile pesante ho avuto delle complicanze dopo aver partorito sono stata ricoverata di nuovo in ospedale insomma è stato un periodo piuttosto tosto e per questo che sono mancata così tanto qua su youtube vi volevo ringraziare veramente di cuore sia io che susanna che giulio che mio marito e volevamo ringraziare per l'immenso affetto che ci avete dimostrato sia qui sia su instagram se volete seguirmi su instagram sotto trovate il link veramente delle persone squisite dolcissime carinissime anche se non sono riuscita a rispondere a tutte perché siete state in tantissime avevo instagram intasato violetto tutte anche se non vi ho risposto comunque ho cercato sempre di mettere il cuoricino cercherò di ritornare a essere presente qui su youtube mi piacerebbe tantissimo caricare un video al giorno come facevo tempo fa però capite bene che con una bambina di quattro anni unionato cinque cani un marito una casa il tempo è veramente poco di ritornare in pieno possesso nel mio corpo e basta onestamente e la e la quindicesima volta che provo a fare questo video e tutte le volte non mi piace perché vorrei vorrei dire delle cose però alla fine me ne escono delle altre insomma è un po così e sono gli ormoni scombussolamenti ormonali un video veramente brevissimo per dirvi che comunque sono ritornata sono ritornata più carica di prima con tante idee nuove spero di poterle realizzare che 2019 possa essere un anno pieno di energie insomma perché ho veramente bisogno di tanta energia non dormendo neanche di notte adesso veramente bisogno di tanta energia comunque e non so cos'altro dirvi ragazze onestamente mi mancano le parole poi vi farò un video su come è andata la gravidanza vi farò un video su come è andato il parto vi farò un video su come sta giulio vi farò vedere giulio adesso non posso farvelo vedere sto parlando anche piano perché è di là che sta facendo la nanna e quindi questo è tutto basta non mi viene in mente più niente vi mando un grandissimo bacione mi raccomando e se ancora non siete iscritte qui iscrivetevi andate a farlo subito iscrivetevi attivate la campanellina così tutte le volte che caricherò un nuovo video verrete avvisate lasciate un commentino sotto che mi piace sempre tantissimo leggere i vostri commenti alla sera e seguitemi anche su instagram spero che questo video sia venuto decente perché il sole sta andando giù e basta ci vediamo alla prossima